Un giorno benvenuti alla segna stampa di oggi, lunedì 19 marzo. Vi ricordo che questa sera c'è sempre Matrix 105 e vi invito a guardare le parole della Balzerani che ho pubblicato sul sito nicolaporro.it per chi dovete sentire l'atteggiamento della brigatista assassina Balzerani nei confronti delle vittime. Non è un'intervista ai brigatisti che, come sapete, sia su Matrix sia qua, io trovo che sia scandaloso che parino solo loro. È un modo di pensare di persone che hanno un'arroganza intellettuale e una violenza nei modi che pensavo fosse scomparsa. In realtà, guardando quelle immagini, condividetela, perché chiunque abbia un dubbio su che cosa siano state le Brigate Rosse, basta che si sentano la Balzerani in un centro sociale e quegli orribili applausi del centro sociale alla Balzerani per capire che qua il problema non è il ritorno del fascismo, ma il ritorno di questi pazzi comunisti violenti contro polizia e carabinieri. Temi di giornata, guardate, parliamoci chiaro, l'inciuso Movimento 5 Stelle e Lega è quello a cui si sta lavorando in questo momento. Tutti il resto sono comprimari. Tutti i giornali sono giorni che ne parlano, Movimento 5 Stelle e Lega sono i due che hanno il pallino in mano, anche forse giusto, perché hanno vinto le elezioni. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito italiano e la Lega è il primo partito all'interno della prima coalizione. Forse sulla Lega la posizione è un po' più delicata, perché la Lega in realtà da sola non va da nessuna parte, con il suo 17% è esattamente la metà dei voti del Movimento 5 Stelle. Salvini dice che non esclude nessun accordo anche con il Movimento 5 Stelle di governo, mentre Maroni dice che questo non è fattibile. Dal punto di vista invece del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra ricorda alla Lega tutti i loro affari con bel sito e tutti quanti i soldi rubati, secondo Morra, di finanziamenti pubblici. Quindi questo cosa vuol dire? Che non c'è l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle? No, vuol dire che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono sensibilità diverse, così come all'interno della Lega ci sono sensibilità diverse. Quella di Maroni è diversa rispetto a quella di Salvini. Intanto il PD in tutto questo, si capisce da tutti quanti i giornali, è aperto al dialogo. Oggi di fatti c'è su giornali, traspare sul Corriere Repubblica, stampa, ma anche sul Messaggero, traspare l'irrequietezza di Renziani. Quanti sono non si sa, perché poi si possono sciogliere come neve al sole, spesso così avviene in politica, perché i Renziani invece sono completamente contrari a un accordo con il Movimento 5 Stelle. Però in questa legislatura tutto avverrà, non vi stupite. Riccardo Maggi, segretario del Partito Radicale, adesso non vi arrabbiate, non vi ricordo esattamente la dicitura, candidato con più Europa. Oggi c'è un colonnino, mi sembra, sul Corriere della Sera che ha già detto che si candida per fare le primarie del PD. Insomma, capisci in che cavolo di situazione. Più Europa, grazie al cielo, non è arrivata al 3%, però si è portata a tre parlamentari. Uno di questi, oltre all'abbonino, è questo Maggi, che oggi punta a fare il segretario del PD da partito più Europa che faceva tutt'altro. Sono quelle cose alla pannella, come qualcuno gli ha detto, fai pannella senza essere pannella. Peraltro è una persona deliziosa, questo Maggi, però è molto divertente. Fabio Todaro dice, sei un venduto? Sì, sì, sono venduto. Uno che non si è venduto è il candidato del Movimento 5 Stelle che si chiama Dessi. Ve lo ricordate Dessi? Dessi era quel suo disono imprenditore che aveva un appartamento popolare, una casa popolare a 7 euro. 7 euro aveva una casa popolare. Il punto vero è che non aveva diritto, secondo quello che era uscito sui giornali durante le elezioni. Di Maio disse, viene espulso lui, i massoni e tutti quelli che non hanno ridato i soldi dei rimborsi, no? Che fine hanno fatto? I rimborsopoli, Dessi e tutti quanti? Beh, oggi, secondo una notizia del Corriere della Sera, ogni parlamentare serve per il Movimento 5 Stelle, ovviamente. Sapete che cosa succede? Secondo il Corriere della Sera, questo Dessi è stato accolto a braccia aperte, o almeno semi aperte, dal partito di Maio. Quindi, altro che espulsione, Claudio Azzoni, servo! Ma io quelli che vi dicono servo, perché sì? Perché mi servono tutte le mattine guardando questa zuppa? Io la trovo straordinaria. Quindi, l'idea che Dessi sia stato riaccolto dal Movimento 5 Stelle, io la trovo fantastica, perché è da il senso di quello che è la campagna elettorale, da quello che succede dopo. Reddito e cittadinanza, flat tax, onestà, onestà, poi dopo si deve governare, è un sistema proporzionale, si deve fare l'accordo con tutto. Intervista a Grillo di Repubblica. Fermi tutti perché non dice nulla, in realtà lui stesso lo dice nelle prime diche, non voglio parlare di politica, lo beccano in Veneto mentre sta facendo il suo spettacolo. L'unica cosa inutile che dice è l'Italia deve avere una visione lunga. Ecco sì, la visione lunga di Grillo, andiamo bene, quella che dice io vorrei mangiarmi i giornalisti e vomitarmeli. Divertente il pezzo di Sallusti, il fondo del giornale, in cui dice che è molto divertente come Di Maio oggi attacca il Movimento 5 Stelle e i Romani di Forza Italia perché è stato condannato in primo grado per peculato perché la figlia ha usato il suo cellulare quando lui faceva l'assessore a Monza e in realtà Di Maio non si è sottoposto al processo per quel caso in cui aveva stilato la lista dei giornalisti che dovevano essere attenzionati perché erano dei servi e poi dopo poi utilizza lo scudo del parlamentare, dice Sallusti, per non andare a processo. Sono cose ovviamente diverse, però devo dire che questa cosa di Romani oggi è su tutti i giornali, Romani fa interviste a tutti i giornali dicendo che aver lasciato il suo cellulare alla figlia è una questione bagatellare. Può succedere? Insomma, bisogna essere tutti un po' più tranquilli perché vediamo come funziona questa cosa di essi e vediamo come finisce la cosa di Romani. Altre due notizie, basta perché oggi voglio farla breve, il plebiscito a Putin col 76% e per la quarta volta viene eletto Presidente della Federazione Russa, l'unica cosa divertente è l'intervista ad Antonio Gramsci. Sì, Antonio come Gramsci, era suo nonno in effetti e molto divertente perché racconta Gramsci, musicista che vive in Russia, ci racconta che cos'è Putin e il motivo per il quale lui l'ha votato Putin. Gli dicono che Putin è legato alla destra europea e lui vuole entrare nella storia. Insomma, se vi interessa oggi forse l'unica cosa divertente è appunto questa intervista ad Antonio Gramsci, che si chiama come Gramsci perché è il nipote che vive in Russia e che ha questa idea. Oddio, adesso tutti con sto trattato di Kain. Io me lo chiede anche uno. Sì, ne parlo, ne parlerò, ne lavorerò a Matrix. Ho già parlato a 105. Quando mi rompono le balle mandandomi 100 messaggi sulla stessa cosa. La prima cosa che penso è che sia una cazzata. La seconda cosa che penso è che siete noiosi. La terza cosa che penso, sì, me ne occuperò perché effettivamente c'è qualcosa in questo trattato di Kain, è diventata una cosa virale e me ne occuperò. Però tranquilli, non è possibile che io ogni... e questo e poi quanto... come funziona la viralità sulla rete è una cosa che ancora mi dà un... come posso dire... il nervoso. Ultima cosa, oggi il grande problema è il trattato di Kain. Non abbiamo un governo, non abbiamo niente, il problema è vero, è il trattato di Kain che è già firmato da anni fa. Adesso siamo diventati tutti quanti esperti di geopolitica. Perfetto, lo farò comunque, perché è un tema interessante, ne parleremo perché ho già mandato l'inviato in Sardegna a occuparsi di questa cosa. L'ultima cosa che vi riguarda e che mi riguarda è il sequestro di una nave ONG spagnola. Io la trovo stupenda perché a Pozzallo è stata sequestrata dal solito procuratore che abbiamo intervistato anche a Matrix, è stata sequestrata perché questi che avevano fatto? Erano andati nelle acque libiche questi spagnoli, avevano salvato un gommone, nessuno gliel'aveva ha chiesto perché non possono entrare nelle acque libiche, la guardia costiera libica voleva indietro queste persone che aveva salvato perché erano cittadini che stavano nelle loro acque territoriali e cosa succede? Questi se ne sbattono e se ne vengono in Italia e scaricano i migranti in Italia. I taxi del mare, i traghetti del mare, come diceva giustamente Di Maio in una trasmissione a Matrix sulla quale lui fu incaprettato da tutti i politicamente corretti che poi di fatto non hanno più preso un voto proprio per questo motivo e anche per questo motivo. Molto bello perché gli danno finalmente associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, ben gli sta, perché insomma ragazzi ci sono delle leggi, non si riesce a capire perché le ONG spagnole si possono permettere nel mare mediterraneo di fare esattamente come gli pare, va bene? Ma come non ne parla nessuno Cain? Avrà ricevuto 50 mei su Cain, non so cosa fare, non ne parla nessuno, ma come non ne parla nessuno? Ne parlate tutti, sembra il grande problema. Il problema di Cain è semplicemente che c'è stato un trattato, pare che c'è stato un trattato in cui l'Italia ha ceduto alla Francia a alcune parti di acque territoriali italiane che sono però molto importanti. Va bene, va bene, detto questo ne parleremo a Matrix mercoledì sera, ne ho già parlato a 105 Matrix due settimane fa ma nessuno di voi ne ha ascoltato tant'è che me lo chiedono un'altra volta perché poi la presunzione è straordinaria, io mi leggo tutti i giornali da mattina, faccio questa zuppa la mattina tutte le mattine, arriva qualcuno e viene qua e mi dice tu non hai parlato di quella roba là? E io dico scusami io non ho parlato qua, ne ho parlato tre giorni fa o ne ho parlato cinque giorni fa, io non presumo che voi sappiate tutte quelle cose di cui ho parlato, che abbiate visto tutte le zuppe, che abbiate visto tutto il sito Nicola Porron, ma la cosa che mi fa arrabbiare Françoise, sai qual è? E' che si presuma che io non parli delle cose nella propria ignoranza totale, cioè io non ti seguo, ti seguo una volta al mese e tu non ne stai parlando, che ci sarà sotto? Seguimi cretino invece di dire che non ne sto parlando, non avere sempre questa presunzione che ci sia il complotto dietro a tutto, avete capito che cosa penso? Poi c'è qualcuno che mi segue tutti i giorni e che sa perfettamente quali sono i temi che affrontiamo o no. Scusate lo sfogo personale ma vi do un grande saluto, vi dico Gigino a purpetta, non lo so se quel candidato di Forza Italia poi è stato eletto o no in campagna, Forza Italia ovviamente è data nel disastro più totale, no? Forza Salvini tocca a te risolvere tutto, dice Sabrina, avanti così Cain, il problema sono le tasse, dice Morris, beh anche questo, non ti incazzare, dice Silvio Bicazzi, che palle dice Laura Cain, tutti i giornalisti d'inchiesta, ha perfettamente ragione Laura, tutti i giornalisti d'inchiesta, basta fare un tweet e pensiamo tutti quanti di avere tutto, e cerio non se niente, non se niente si servo, cerio non se niente, sarà cerno, ciao!